Buongiorno, oggi sono... come si chiama il nipotino di Papperino? Qua? No, un altro. Qui? Oggi sono qui per parlarvi del ristorante Antonico di Carbonia. Il ristorante si... cosa fa che lo cuti? Presenta? Il ristorante si presenta bene. E' molto... cosa è un oggetto quando costa molto? Cosa si dice? Caro? Piccolino? Carino. Il ristorante è molto carino e accogliente. E' proprio bellissimo. E... dove si chiamano quelle che scordano la bocca? Oggi non mi bevo le parole. Se non ti vengono le parole per descrivere i pregi del ristorante Antonico di Carbonia, usa quelle dei clienti. E già, se vuoi sapere come si mangia e come si sta il ristorante Antonico, basta chiedere i clienti. Il ristorante Antonico si trova in centro a Carbonia. La cucina è quella tipica sarda, caratterizzata da specialità di mare e di terra e completata dalle ultime pizze. Consigliatissimo! Bene, e... come si chiama questo che mettono la spuola, Antonico? Visto? Visto che hai detto tutto tu, io chiudo. E siccome io sono, me ne vado a... come si dice la donna? No, no. Me ne vado a nana. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.